Dopo la richiesta del sostituto procuratore di Milano, Cuno Tarfusser, anche il tutore di Olindo Romano e Rosa Bazzi ha presentato un'istanza di revisione della sentenza. Sentenza che dopo tre gradi di giudizio ha stabilito la condanna all'ergassolo per i due coniugi colpevoli della strage di erba dell'11 settembre 2006, nella quale vennero uccise quattro persone, tra le quali un bambino di due anni e ne venne ferita gravemente una quinta. L'istanza è stata presentata alla Corte d'Appello di Brescia dal tutore dei due coniugi, l'avvocato Diego Soddu, dopo quella, come detto, il sostituto procuratore di Milano Tarfusser. Nella richiesta il legale avrebbe chiesto di riunire la sua istanza a quella del magistrato milanese. I giudici bresciani dovranno decidere sull'ammissibilità di entrambe e sulla loro riunione.